I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri, in base al DMC numero 145 del 203 2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Se ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Ma buonasera eccoci di nuovo insieme dopo l'appuntamento insomma del pomeriggio. pochissime sono le ore che ci hanno poi portato insomma a questo orario alle ore 20 una mezz'ora insieme. Ero con lui oggi e ovviamente lo siamo di nuovo. Quindi buonasera e ben ritrovato Marco. Ti vengo subito a salutare. Ciao. Ciao Sheila, ben ritrovata. Un buon lunedì sera va tutto il pubblico di Italia 53 qui con Casalotto. Abbiamo meno tempo rispetto al pomeriggio ma ripercorreremo insieme alcune possibilità. Ovviamente da utilizzare domani sulla seconda estrazione del mese di aprile. Rimanete con noi. Bene, una puntata di mezz'ora dove non mancheranno ovviamente le notizie. Tanti oggi ci avete scritto sul nostro numero di WhatsApp. Tanti hanno partecipato al gioco. Lo sapete che la sera non scriveteci perché se no restano lì in archivio perché il nostro tablet lo utilizziamo nella diretta del pomeriggio e anche nella sera di estrazione, questo va detto perché aspettiamo i vostri scontrini durante la nostra bella mezz'ora di diretta, ovviamente delle vincite. Vedremo che cosa accadrà domani. Dunque io vi aspetto con la prima notizia tra poco perché infatti vi lascio in compagnia di Marco per vedere dove vi porterà in questo appuntamento delle ore 20. Ah, subito? No, magari chiacchieriamo un po' se vuoi. Andiamo subito, no. Io intanto ho già chiesto alla regia se devo andare nella redazione vecchia o quella nuova che è un po' la diatriba di questi giorni. Allora, mi hanno già detto la vecchia, quindi adesso ci andiamo, andiamo insieme anche perché ripercorriamo quella che è la traccia più importante o quantomeno è la più utilizzata per l'estrazione di domani perché in relazione al mese di aprile abbiamo già analizzato anche negli scorsi giorni parlando di quali sono le possibilità dedicate soprattutto al gioco dei radicali perché i radicali all'interno del mese di aprile nelle loro otto quartine sappiamo che vanno dalla uno alla otto perché con i nove non ci sono radicali c'è solo il vertibile in puro 9,90. Bene, attraverso questi ci sono sicuramente delle possibilità. Il primo consiglio ci porta ad osservare all'interno dei radicali dell'otto il gemello più importante. I radicali dell'otto, ve li ricordo, sono l'otto 80, 88, 89. Bene, sulla base dell'88 ci sono delle ottime possibilità e questa è la storia del mese di aprile. Chi ha voglia, modo e tempo, di andare a ripercorrere negli anni il movimento dei radicali in generale all'interno di aprile si renderà conto che hanno un'altissima frequenza. Stasera ce ne occupiamo un po' di più rispetto ad oggi pomeriggio ma il primo servizio, quindi il primo consiglio ci dà ovviamente una traccia unica sull'88 e uno zerato che a noi piace tanto. Non ve lo dico, venite con me. Rieccoci, allora l'appuntamento serale purtroppo ha meno tempo e allora 895 095 qual è? Il portale multiservizi con le tre opzioni. Ve le ricordo, il tasto 1, info e l'enco abbonati il tasto 2, le informazioni turistiche e le prenotazioni viaggi il tasto 3, aggiornamento area lotto. Costa 2 euro da tutta la rete fissa ma con un euro in più dai cellulari Team, Vodafone, Wind e 3 lo potrete utilizzare. Occhio al contenuto, l'ho promesso sarò veloce siatelo anche voi mi raccomando perché per questo appuntamento in esclusiva troverete lo speciale 88 e lo speciale 90. Oggi pomeriggio avevamo un po' più di tempo e vi ho raccontato di più nella parte statistica quali sono gli elementi più attesi proprio ad aprile. Con il 90 ci siamo, seconda estrazione del mese tutto ciò che andremo ad usare si riduce poi ad un gioco fatto di due ambi e un solo terno. Il pezzo forte, ed è tutto dire che io dica questo è non tanto il 90 ma l'altra condizione la vediamo, il gemello all'interno dei radicali dell'otto più atteso, ovvero l'88. L'88 di aprile è uno speciale importante perché i gemelli, ci state sentendo in questi giorni parlare di numeri gemelli e di radicali poi in realtà appartengono alla stessa teoria tecnica perché i numeri gemelli sono sempre all'interno delle quartine radicali quindi di riff o di raff è un elemento certo del mese di aprile ed è un dato che va per corso. Con l'88, e questo quando capita? Vi sto dicendo c'è solo un terno e quando tecnicamente i numeri si ripetono o sono particolarmente schiacciati che non è il caso di mettere in campo più ambi, più terni ne basta uno perché se è quello giusto alla meta ci arriviamo. E allora il terno con l'88 il doppio ambio eterno con 90 sono in esclusiva per voi nell'895095 vi aspetto come sempre insieme all'Io dopo il tasto 3. quel che provo è un sentimento un bastimento di emozione mentre vado ad agrigento con l'estate in progressione mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione quel che provo è un sentimento fuga dal fidanzamento mentre vado ad agrigento io mi apro al tradimento mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione e poi mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione mentre là mi aspetti tu fino a perder la ragione agrigento quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento mentre arrivo ad agrigento mi si placca ogni tormento perché qua mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione ho trovato una ragione ho trovato una ragione quel che provo è un sentimento un bastimento di emozione mentre vado ad agrigento con l'estate in progressione mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione l'estate lo che provo è un sentimento fuga dal fidanzamento mentre vado ad agrigento io mi apro al tradimento mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione con l'estate con l'estate con l'estate con l'estate con l'estate con l'estate coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione fino a perder la ragione agrigento quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento mentre arrivo ad agrigento mi si placca ogni tormento perché qua mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione bene ci piace tanto fare gli auguri di compleanno insomma e ricordare anche chi nasce in questo giorno ebbene è un cantante mi piace devo dire che lui Francesco Gregori lo ascolto volentieri con grande piacere insomma è il suo compleanno oggi lui il cantautore romano nato appunto il 4 aprile ma del 1951 debutta in coppia con Antonello Venditti ma colui ha poco da spartire tanto Venditti è melodico e passionale tanto Francesco è asciutto e poetico ha i limiti dell'incomprensibilità il suo modello da sempre è Bob Dylan e non ha mai fatto un mistero il suo miglior album per molti se non per tutti è lo storico Rimmel del 1975 dove rende omaggio all'amico rivale di sempre appunto Antonello Venditti ti piace Francesco Gregori? devo dire non rientra nel mio genere però io sono un caso a parte ma è sicuramente insomma roba forte quindi è un pezzo della storia della musica italiana sicurissimamente questo credo che sia molto amato dal nostro autore Giovanni Giovanni Caviezel di l'energia con i ragazzi a te piace molto è vero De Gregori? ai tempi hai fatto della bella musica comunque ah vi siete conosciuti negli anni 70 pensa a te tanto per rimarcare che siete giovani ecco ecco esatto gli anni passano gli anni passano oh poi ci occuperemo ancora di lei pare che questa voce che sta girando sia vera che che sono incinta ma davvero? 48 anni eppure pare che la nostra Valeriona Marini oltre che sposassi aspetta in dolce sia in dolce attesa che tempismo abbiamo parlato con te o con l'io ero? e con chi ero qualche non lo so ma è un po' che se ne parla voglio dire non sei ancora ben capito giocavo con la penna mi è cascata dopo la prendo eh non lo so 48 un po' un po' tardino sì però con lo spirito che ha lei ma non è cosa di spirito l'età passa gli anni si sentono la carne rosso quanti ne hai avuti? eh ho capito quando è nata Maria anzi forse più di 48 lo ne aveva però non lo so io sai che a volte penso allora se una roba deve capitare vabbè non c'è età succede e quindi non ho trovato con chi farlo prima ma non lo so io trovo un no il gesto secondo me è egoismo puro totale sì perché dici così? perché non sarai mai un genitore sarai un nonno da subito 48 allora lascia stare l'età piccoletti quindi insomma ma che iniziano a camminare a capire sono 58 cioè a 20 anni sono 60 ho capito dove andare ma no ma è orribile no io sono dell'idea che i figli si devono far presto e quindi te li vivi meglio sei un genitore più ai tempi ma quello sì però non lo so poi penso poi se succede voglio dire in una coppia che ha già avuto arriva va bene però tanti li vanno a cercare quindi se la sono stragoduta prima e poi pensano no alla famigliola tranquilla la terza età non lo so non mi piace è una mia una mia sensazione lo trovo egoismo ecco punto vabbè io ho ancora tempo allora rientro ancora qualche annetto mi dai ancora perché insomma bene allora bene Marco dai con tutti i rischi che vanno a seguito perché per quanto i tempi sono cambiati però insomma di rischi se ne passano io lo so che su queste robe sono sempre impopolare però io la trovo un gesto che non lo so poco poco carino troppo da vecchi uno che faccia non vedi l'ora di stare un po' più tranquillo no a far figli quando è quasi ora andrà in pensione però no non ne parliamo più guarda andiamo in redazione andiamo in redazione e parliamo di numeri che sono sicuramente più freschi andiamo rieccoci beh insomma ho preso un paio di insulti per questa cosa dei figli da troppo grandi però io la penso così detto questo Lotto Shock 89 22 22 quindi parliamo di un altro portale multiservizi che va a rappresentare un'altra strada questa è in esclusiva per il pubblico di Italia 53 qui a Casalotto nell'appuntamento del lunedì sera oggi pomeriggio non ne abbiamo parlato io prima vi ho dato delle anticipazioni perché quando si va a parlare di radicali ci dobbiamo ricordare che i numeretti i numeri gemelli appartengono a quelle quartine quindi gira che ti rigira il significato è sempre quello allora i contenuti in relazione all'89 22 22 quindi ritornando all'Otto Shock sono tre strade diverse straordinarie la prima ci porta al numeretto 9 se noi andiamo a pesare le uscite del numeretto 9 o del suo vertibile zerato 90 dal 15 di febbraio quando siamo ritornati in tv a oggi beh insomma il 9 ha di gran lunga battuto per iperfrequenza proprio il suo vertibile zerato 90 ed ecco il numeretto 9 occhio domani sera al 9 con il suo ambo e il suo terno passiamo ai radicali del 7 e qui sono pronti abbiamo già avuto modo anche nella scorsa settimana di parlarne e di vederne uscire ci sono i due ambi con i radicali del 7 e chiudiamo con il 4 il 4 associato a un terno radicale chiude la condizione di aprile tutto qui e allora un lotto shock pura tecnica e statistica per voi io e l'io vi aspettiamo come sempre dopo il tasto 3 e vi ricordo che da tutti i cellulari costa un euro in più rispetto ai due euro che spenderete per la chiamata invece da rete fissa che provo è un sentimento un bastimento di emozione mentre vado ad agrigento con l'estate in progressione mentre la mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu tra le onde di passione fino a perder la ragione progrone quel che provo è un sentimento fuga dal fidanzamento mentre vado ad agrigento io mi apro al tradimento mentre la mi aspetti tu il nostro corso What you saved my life Oh, oh, devil My life has never been so good I was lying on the devil's hip My little name was Lime I was lying on the devil's heart My little name was Lime Oh, oh, devil What you saved my life Oh, oh, devil My life has never been so good I was dancing on the devil's heart I was a little afraid I was dancing on the devil's heart My little name was Lime Oh, oh, devil What you saved my life Oh, oh, devil My life has never been so good Never been so good Never been so good I was climbing on the devil's heart I was lying on the devil's heart I need a piece of new place I was lying on the devil's heart My little name was Lime Oh, oh, devil What you saved my life Oh, oh, devil My life has never been so good My life has never been so good I was lying on the devil's hip My little name was Lime I was lying on the devil's heart My little name was Lime Oh, oh, devil What you saved my life Oh, oh, devil My life has never been so good I was dancing on the devil's heart I was dancing on the devil's heart I was dancing on the devil's heart My little name was Lime Oh, oh, devil What you saved my life Oh, oh, devil My life has never been so good Vero che insomma ne abbiamo involontariamente già parlato all'inizio però vediamo almeno delle immagini di lei, di Valeria Marini che oltretutto comunque è vero che gira questa voce insomma incinta, non è incinta lei pare che stia smettendo il fatto di essere incinta ma non che si sposa questo è lui, eh? Sì, la prima foto ho visto sono due gemelli Allora I social traboccano di ironia per la sua supposta, eh, appunto gravidanza di Valeria Marini, 48 anni partolirà in mare come tutti i cetacei è una delle più caritatevoli frecciate lui è carino però Tra la supposta e il mare è supposta però, esatto Ma è da poco che si frequentano qualche mese No, ma anche lei a me piace tanto insomma è una che mi diverte tantissimo perché poi non è così come appare, insomma è un po' diversa però sta roba qua, ripeto, non lo so poi se lo è, non lo è, saranno tutti fatti suoi io non è che amo troppo il pettegolezzo il marito se è quello mi piace quindi Il futuro marito Assolutamente, va bene però non lo so, la mia era semplicemente una riflessione è ovvio che non è che, insomma, finché una è fertile il rischio di rimanerci ce l'ha È chiaro Ecco, però, insomma, siamo in un mondo dove si può tranquillamente, tra virgolette, prevenire non lo so, credo che ogni età poi abbia la sua roba poi uno fa quel che vuole, ci mancheresse altro Beh, certo Tireminans Vedremo, vedremo Comunque, ti teniamo d'occhio Valeria La notizia continuava nel dire che intanto sul fronte delle chat si scopre che Milano è la capitale delle relazioni online e anche qua si aprirebbe un altro capitolo che forse è meglio non farlo in questa puntata Parliamone un po' Tu cosa ne pensi, per esempio? Nelle relazioni chat online? Non mi fido, non mi sono mai piaciute Non le capisco, in tutta onestà ci sono montagne di chat, applicazioni, robe che voglio dire, volgarmente, un flash Se queste robe nascono a fine, diciamo, di incontro da una serata di sesso ed è morta lì, forse hanno un significato e quindi più persone che in quel momento vogliono fare una determinata cosa apri sta roba, la cerchi, la fai e la chiudi lì Devi anche avere però quel grado di maialaggine che ti consente di farlo ma non ci metto nessun tipo di giudizio Ma quando tu pensi che da quella roba lì ne può venire fuori una roba seria è quello che mi spaventa perché mi lascia... e l'incontro dove sta? Poi sono tutte robe fatte di foto ritoccate se non addirittura false io ci leggo tantissimo il pericolo dietro, per esempio perché sai, se è l'incontro di sesso, questa roba lo fai, lo organizzi, è finita lì ma chi ci crede davvero e crede che lì può trovare l'amore E sai che ce ne sono? No, ma io avrei proprio paura, non lo so, non lo so la trovo ecco una roba pigra anche questa sentimentale sì, è pura pigrizia a meno che non ci sia il colpo di genio anche perché poi la maggior parte della gente dentro lì è una gran presa per i fondelli è una gran parola di tempo perché è tutto un meccanismo un po' contorto quindi non lo so, rimango basito sì, tanta gente ci crede peccato che poi ti prendi delle svirgolate Torneremo anche su questo argomento anche perché in questi quattro minuti abbiamo il Cuba Libre, Cuba Stones ma non so, magari la teniamo per dopo No, non è niente Cuba Libre Ricordati invece Giovanni nei prossimi giorni magari di pomeriggio che abbiamo un'ora ritorniamo su sta roba delle chat e chiediamo a casa alle amiche se ci credono se magari invece qualcuna o qualcuno ci può raccontare una cosa che è l'esatto contrario di quel che abbiamo detto e che quindi ha veramente incontrato l'amore e insomma, parliamone di più adesso non c'è tempo però possiamo chiudere al costo di un caffè con un altro consiglio venite con me Rieccoci, allora abbiamo pochi minuti tutte le linee però ci sono e allora io vi invito all'utilizzo dell'892288 come portale multiservizi però qual è la caratteristica che lo differenzia dagli altri? il basso costo non costa 6 euro, non ne costa 3, non ne costa 2 ma 1, 1 euro, poco più di 1 euro da tutta la rete fissa, da tutti i cellulari oggi io ve l'ho ricordato adesso davvero ho due minuti e mezzo poi chiudiamo l'appuntamento il famoso terno dell'ariete è non tanto dedicato al segno dell'ariete ne abbiamo parlato tanto oggi pomeriggio ma è una condizione che c'è solo adesso quindi voi non mi vedete o me o l'io tutti i mesi quando cambia il segno zodiacale arrivare col terno dedicato a quello c'è un motivo molti di voi sanno esattamente che cos'è qualcosa vi ho spiegato poi magari domani se ho le linee per farlo ne riparliamo ora c'è un terno ed è questo famosissimo atteso proprio adesso e poi la seconda traccia che invece è lo storico Bari-Venezia sulla seconda del mese devo tacere ma vi lascio correre dopo il tasto 3 al costo di un caffè utilizzando l'892288 il docto Scende la notte più buia che c'è In giro non si vede più niente Ma non fremate, non temete perché Nel cielo vola una usce potente Ci salva in fretta da questo blackout Blackout Sfrecciando al ritmo di twist and sharp A tutti i numeri per farmi il mesh È lotto flash È un razzo da cometa di jazz È lotto flash È lotto flash Nel buio tutti i gatti son neri Di loro si vedono solo gli occhi Ma non facciamo brutti pensieri Nel buio sol paura gli sciocchi Perché una luce arriva dall'alto È lui che scende con un salto Già ciuffa molto prima del crash È lotto flash Bene bene eccoci qua Allora vi dobbiamo salutare Io vi saluto domani Non spaventatevi se non ci sono Ma capita che insomma settimana scorsa Qualche settimana fa è stata male Arianna quindi mi ha chiesto di sostituirla Un giovedì sera E domani recuperala è il turno Quindi domani vedrete Vedrete lei pomeriggio e sera Soprattutto la sera per l'estrazione Grazie Marco Grazie a te Sheila Dobbiamo già iniziato a mangiare Termina qui l'appuntamento della sera Una buona serata E ci vediamo domani Pomeriggio e sera Grazie ancora Ciao Grazie ancora Marco E anche a voi che ci seguite sempre con affetto Ciao Grazie Grazie